che vergogna tra veramente tra la nazionale tra la lazio ultimamente no però in quest'anno quasi sempre perdeva poi vinceva due partite poi riperdeva e della nazionale non ne parliamo ultimamente come stiamo andando e tra la ferrari veramente io avanti così non riesco ad andarci perché veramente ma non è possibile è vergognoso è vergognoso questo che una partita del genere ma come si fa a giocare con una partita così io non vedo ci accendiamo avanti di questo passo poi oggi se vincevamo non bisognava essere tutti esaltati come l'abbiamo vinto questo europeo a me viene da pensare anche questo è solo fortuna mi direte anche secondo me perché non è possibile che una squadra campione d'europa non vada ai mondiali e abbia un gioco così scandaloso ma oggi sembrava una partita di una squadra della juve di 5 6 anni fa contro una squadra di 16 e quella squadra di 16 eravamo noi era l'italia non è possibile questo ha comunque vedete no questo video io lo dovevo portare sul canale quello la casa delle acque ma ho già detto che avevo fatto un ultimo video quindi vi porto qua adesso ricominciamo a parlare di calcio in questo canale quindi tanti like mi raccomando se volete che io vi continui a parlare di calcio in questo canale se no ritorno sull'altro anche se non vorrei perché la il video non li vedono quasi mai nessuno qui adesso avrò anche più video da fare no perché facendo video parlando sia di calcio che di formula 1 poi magari il prossimo mese circa farò uscire i primi video al campo da calcio quindi ragazzi ne attivate la campanellina mi raccomando così non vi perdete tutti i miei video però prima vi dovete iscrivere se no che campanellina scendete non attivate più nessuna dopo campanellina no quindi ragazzi è una cosa che devo dire purtroppo è che qua nel calcio italiano siamo messi molto 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 male perché non è possibile che noi facciamo una partita contro l'argentina e non riusciamo cioè io non avevo mai la sensazione di essere pericoloso invece l'argentina ogni volta che messi oppure anche di maria prendevano palla io ogni volta tremavo solo quando loro toccavano il pallone a parte che di maria un calciatore pazzesco che secondo me alla juve si rovina diciamo se resta allegri ma sia lui che messi i ragazzi sciapò tanta roba è ma questo non giustifica in modo di giocare no che perché anche mancini era proprio rassegnato tecnicamente li perdavamo tutti perdavamo tutti i contrasti non mi arriverevamo sempre dopo sul pallone rispetto agli altri non è possibile poi non avevamo idee di gioco ti un po' così i giocatori ragazzi che molti inchialini bonucci ormai con tutto il bene che gli voglio ma anche una difesa poi se in difesa facciamo e ci perdiamo così allora già in attacco non è mai stato un nostro forte e se anche la difesa fa acqua dove andiamo ragazzi dove andiamo meno male che non ci siamo qualificati per per il mondiale perché veramente facciamo una figura di merda quest'anno anche nella nation's league ma è possibile che al novantesimo entra di bala e quello ci segna due minuti dopo c'è ma c'è qualcosa che non va qua veramente ogni contropiede loro facevano quello che volevano io veramente una partita del genere è vergognosa siamo i campioni d'europa noi è ma io non lo so ragazzi veramente non riesco neanche più ad arrabbiarmi con più di tanto perché ultimamente sto perdendo proprio le speranze io non so ho visto un'italia spenta senza idee di gioco sembrava quasi che non avesse voglia di giocare ma prendete milioni dovete sudarla la maglia ragazzi ma io non lo so anche il mister ha fatto dei cambi secondo me un po così ma sì poi ha dei calciatori che veramente tipo belotti e bernardeschi ma nessuno che ha decisivo in attacco anche gli attaccanti giovani non abbiamo uno giovani o non giovani ragazzi noi non non riuscivamo proprio a creare azioni di gioco ma cosa vuoi creare che il possesso palla è stato sempre nell'argentina ma perché noi proprio sembrava che ci mancasse proprio la voglia anche le capacità tecniche capisco che manca verrati ma che vuol dire mica un calciatore ti cambia tutto tutta la partita anche la teglia secondo me è proprio l'atteggiamento che sbagliato l'atteggiamento non va bene così ragazzi così non si va da nessuna parte noi non possiamo pretendere che una squadra campione d'europa faccia una figura del genere è vero non è il mondiale non è non abbiamo fatto nulla era una partita che fino a un poco tempo fa non esisteva neanche questa coppa ma è pur sempre una coppa che te devi vincere almeno provarci è una partita può succedere di tutto invece veramente oggi sembrava un allenamento per l'argentina cioè noi siamo andati da fare i pagliacci ragazzi ma ci rendiamo conto della prestazione che abbiamo fatto che abbiamo fatto ditemi voi sotto nei commenti che ne pensate ma io veramente sono deluso da questa italia e non vedo un grande futuro è non vero a me sembra che molti calciatori si siano sentiti arrivati con la vittoria dell'europeo poi caspiterina che hai in bagno un trofeo ci metterai un briciolo di impegno no basta ragazzi non ne posso più speriamo bene la prossima dovrebbe essere contro la germania in the nation's league anche la speriamo bene poi non mi non mi va che appunto la germania era retrocessa e poi hanno ricambiato il regolamento adesso ce la ritroviamo e di nuovo diciamo nella serie a della nation's league diciamo però a parte quello noi dobbiamo pensare il nostro cammino ma non è se giochiamo così le prendiamo anche dalla germania è ragazzi così è perché noi non possiamo giocare così non abbiamo gioco non abbiamo nulla nulla ma capite cosa c'è proprio nulla niente guardate io basta mi sono stancato speriamo di vedere una un'italia migliore e ma qua bisogna ripartire anche dai club perché non è possibile che gente magari di di 21 22 anni abbia fatto poche presenze anche nei nostri campionati le nostre squadre italiane devono provare a prendere anche a parte a migliorare il settore giovanile anche magari prendere più calciatori italiani e valorizzarli non sempre prende lì l'albania dall'estero così tanto per calciatori italiani farli giocare anche se sono giovani perché è giocando che loro fanno vedere il proprio talento no qua bisogna proprio è una filosofia che bisogna cambiare nel nostro calcio perché a questo punto guardate non è che non vedo un grande futuro io e anzi c'è veramente una delusione basta ragazzi se guardate se volete iscrivetevi lasciate like in altre schede video precedenti sotto dell'escrizione link per seguirmi su instagram e dei miei altri canali youtube su twitch e non so cosa farò vedrò se riprenderò forse riprenderò a fare live da tipo tra un mese o inizio settembre o almeno smetto se smetto o può darsi forse anche smetterò però comunque prima devo riprendere dopo vedremo insomma comunque vi aggiornerò più avanti detto questo sempre forza razio ferrari e sempre forza italia lo stesso anche se nella maggior parte delle volte soprattutto ultimamente ne bisogna soffrire ragazzi ma non soffrire solo a livello di gioco ma proprio non ce la facciamo siamo gli anti forse ci studiano ma ma allora noi non è che possiamo che vuol dire quello grazie tutte le squadre vengono studiate ma noi dobbiamo uscirne in qualche modo ragazzi va bene arrivederci sempre forza italia grazie grazie grazie